Signore e signori, ragazzi, ragazzi, eccoci qua. Dove ci eravamo lasciati? Ci eravamo lasciati con Moreno, Giuseppe e Gianfranco in fuga sull'autostrada del Sole, diretti verso Monte Carlo e inseguiti da Renatino, il capo della banda della Magliana. Ma perché tutto questo? Come ci siamo arrivati? È Ventosa. Non mi piace essere chiamato Ventosa. Grazie all'amico Gianfranchino siamo stati in qualche maniera risucchiati in un portone o portale o portoncino spazio-temporale che ci ha catapultati al bar della Magliana del 1982. È arrivato a Mandrake! Renatino, il boss. Renatino? Mica uno qualsiasi. Mi ritrovo tre deficienti che vengono dal futuro e vengono a casa mia nel bar mio e mi vengono a rompere le schiavo. Chi va mandato? I servizi segreti, Andreotti, chi va mandato? Andreotti è morto. Il nostro problema principale qual è? Secondo Moreno dovevamo approfittare del nostro know-how, del fatto di sapere cosa sarebbe successo nel futuro per sfruttare le situazioni e fare tanti soldi. Inventavo il tablet, Facebook, il pulcino Pio. Ma chi so un culo il pulcino Pio? Meno male che la mia memoria mi ha fatto ricordare tutti quanti i risultati delle partite di calcio del mondiale dell'82. Tanto adesso c'è pure il gol di Diaz. No! La mondiaz! Io penso a tutto quello che ho dovuto passare l'altra volta. E me, non sei contento? Fammi amicizia. Mi sono dovuto pippare i gabbiani. Un gabbiano era enorme, un gabbiano lungo così. Essere costretto da Renatino a fare una rapina travestito da chissi, tutto bianco. Fermi tutti, ci non si è capito questa una rapina! E adesso l'ipotesi, dopo che siamo riusciti per il miracolo a salvarci, è quella di ritornare nel passato. Voi siete? Fammi chissi. Chissi siete. No, eh. Te prego, no. Io non so se mi regge la tua. Can't get enough of you, baby! Can't get enough of you, baby!